Con la macchina elettrica mi trovo molto bene, è tutta un'altra cosa rispetto alla macchina termica, sia come modo di guidare, sia come comfort, sia per me che per i passeggeri. Una volta provato non puoi fare a meno, il suo comfort, la sua agilità, la sua ripresa non ha niente a che vedere con la macchina tradizionale. Le differenze maggiori tra la macchina elettrica e la macchina termica sono, prima di tutto, l'accelerazione, che è veramente pazzesca, la silenziosità in vettura e dopo l'assenza di manutenzione. Il veicolo elettrico non ha l'olio, non ha il filtro e quindi la differenza è netta. Che è importante per chiunque, ma soprattutto per noi tassisti, se facciamo 200-300 km al giorno è fondamentale, è un risparmio enorme. Per ricaricarle la macchina mi sono organizzato installando un wall connector a casa, 6-7-8 ore a seconda di quanta ricarica torno a casa riesco a ricaricarla per il giorno dopo. I costi si sono abbassati in maniera molto molto rilevante, sono passato da 20-30 euro al giorno di carburante a 5-7-8 euro al giorno di corrente. I clienti sono tutti molto contenti, si accorgono subito che è una macchina elettrica, soprattutto notano l'accelerazione, comunque la maggior parte. Sono molto soddisfatto dell'acquisto di questa macchina, lo riferei al 100% anche perché mi ha dato una svolta sia a livello lavorativo che di sicurezza e tranquillità. Sono molto soddisfatto e lo consiglio anche ai miei colleghi.